il primo pezzo che cosa ci farei ascoltare? Come abbiamo già introdotto Avarche San Paolino che eh è la leggenda e la storia di San Paolino e della della barca che eh riporta San Paolino dalla schiavitù allora Avarche San Paolino canta Tino Simonetti ma che poti stavar caminza festa pensa qualcuno che non è da cà è certo di gianna che roba è questa se non doni do mare a sta città oi cura stia sta barca che ha dovuto che ha da grido segre e se esparca io s'andata da Turchia portando su trionfe e l'allegria proprio a 200 mili quando andano a te e la donna che ha colimma tanto pena e può sapere che a sosti monumenta o i furastina mia cadaciati guarda la buona vita è tutta un'arte che non va a morire o i furastina sticciglia cadupina che te grido sai che so tutti in base sono fatta d'or argento ma prima era una giura sulla mente ognone loro spiegano ma stiede che ha scelto a nanzo santa prigioniera si è chiesti di un bambino e zannuccia possa diventa San Paolino proprio a mor è stesso veramente in carne e ossa vicino ma di Agnese gioia o no o i furastie stu santa cadupina che da grido sai che è fui pescava potente stu paese buona carita te vale cortese ecco Anna che la vena lo pregai e tutto ci salvai ecco Anna che la vena lo pregai è tanto che la vena salvai Grazie a tutti